buonasera grazie sono il fenomenale xrex per voi allora buonasera allora vediamo un po da dove è iniziata questa canzone Montecorpino Rovella allora io ho iniziato da youtube già dal 2016 però io è successo tra 2017 e 2018 con il mio brano da singolo da cantautore Montecorpino Rovella e non solo ho inventato le parole ma anche la base stessa come l'hai inventata la base? tramite un gioco che si chiama Beed or Rator gioco per PSP ah ho capito che lì si poteva crearti la base come cavolo volevi e tutto e quanto eccetera prima la facevo una versione un po' più velocizzata cioè una versione normale stesso nel gioco poi io tramite con i computer che ho fatto l'esportazione eccetera eccetera ho rallentato un pochino perché se no troppo cioè è bello che il rapper deve andare sempre quella cosa deve andare veloce però ho voluto preferire un po' rallentare un pochino perché se no le mie parole sulle strofe non si sentiva un granché partiamo proprio dalle parole ho sentito un passaggio nella tua canzone in cui tu citi praticamente la nostra città Battipaglia che è anche la tua città natale la città dove sei nato però dici non me ne importa di niente perché io sono di Montecorpino e ne vado fiero esatto perché cosa c'hai contro Battipaglia? non c'ho nulla tranquilli non c'ho nulla cioè io non ho proprio nessuno ma io ho detto tanto per scherzare pure il fatto per esempio la parte di Palermo quella... c'è di un po' tante città si infatti è una gang io infatti ci ho fatto pure una canzone diciamo bella proprio dedicata a Palermo anche se è una storia inventata però in realtà la magia però c'è stata però io però ho fatto una storiella così inventata per dire cioè l'avevo presa un po' come Gotham un po' come Gotham perché voi dovete sapere ragazzi che il nostro amico Akuma X Rex è di Montecorvini ha fatto questa canzone però è la sua città natale praticamente lui dove è nato è nato qui a Battipaglia è un battipagliese di provenienza giustamente come ti è venuta questa idea? hai voluto omaggiare la tua città? ma non è che ho voluto omaggiare semplicemente è una mia scelta di cuore cioè quella di scegli Montecorvino e non Battipaglia ma anche perché... no 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 non per quanto riguarda Montecorvino o Battipaglia dico l'idea proprio di fare questa canzone ispirata alla tua città Montecorvino sì 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 ma proprio perché io amo il mio paese amo il mio paese cioè perché se no se non amo il mio paese non sarebbe mai uscito grazie a tutti